Come nasce questa mostra per molti aspetti, dobbiamo dirlo così, singolare e stimolante anche? Nasce dall'esperimento di accostare due esperienze tendenzialmente molto diverse, molto lontane nel tempo. Veniamo ad esempio al contesto in cui ci troviamo adesso, che è stata una mostra che abbiamo già anticipato a marzo del 2017, a marzo di quest'anno a Milano, che è una mostra di mail in art. La mail in art è quasi una categoria estetica affermata, però in questo caso è un'operazione rivolta ai carcerati. L'associazione Artisti Dentro, parlo della prima parte della mostra che dialoga, non va nelle carceri ma chiede appunto ai carcerati di uscire. Come lo fa? Fa un'operazione molto interessante attraverso la collaborazione con una casa editrice che è il Prato. Noi mandiamo delle cartoline precompilate nelle carceri che partecipano chiaramente a questa iniziativa. Queste cartoline vengono illustrate, vengono dipinte, vengono utilizzate come strumento attraverso il quale passa la creatività del carcerato, dell'ospite del carcere. Poi vengono spedite, mandate quindi all'associazione, la quale organizza poi una commissione di valutazione, una premiazione e una mostra poi dell'iniziativa. Ecco quindi qui a Villa Giulia potete vedere una selezione chiaramente di queste cartoline che ormai sono più o meno più di un migliaio. In questa location questa mostra dialoga invece con un percorso totalmente diverso. Sono quattro opere diciamo di questo artista noto appunto come il Cavaliere Tempesta, siamo al XVII secolo, artista di paesaggio. E quindi vedremo quattro capolavori assoluti di arte seicentesca del XVII secolo che dialogano invece con una forma di creatività che nasce in un contesto sociale, politico, culturale, estetico totalmente diverso. L'arte possiamo dire non conosce i frontiere. Sì, infatti per noi ci sono almeno tre ragioni per cui è importante questa mostra. La prima è che presenta un paesaggista di grandissimo rilievo, molto potente, che è questo Peter Miller, detto il Cavaliere Tempesta, che ha questi quattro paesaggi che sono meravigliosi e quindi per noi che siamo il museo del paesaggio hanno una valenza molto importante. La seconda è che qui a Verbagna c'è una lunga tradizione di attività sociale a supporto dei detenuti e del rinserimento dei detenuti. E la terza è legata al fatto che questo autore ha avuto per lungo tempo un rapporto molto stretto con la famiglia Borromeo, sia durante la detenzione perché lui è stato detenuto come mandante di ux o ricidio, sia durante la detenzione che anche dopo. Grazie. Grazie.